da parte di Verona, non ravvisati dal primo arbitro, poi arriva Hornout, prova a schiudere il punto, non lo fa, allora Milano ha una nuova opportunità con Leandro Mosca, ma Ishikawa ha tutto a fare, questa volta al palletto. Ishikawa si è alzato un primo tempo a Mosca, veramente indietro, indietro, spettacolare, gli viene buon'è da solo.